Salve a tutti, sono di ritorno da un incontro di lavoro in cui con alcune persone mi sono occupato di stilare un progetto di comunicazione per una o due aziende impegnate in comparti totalmente diversi da loro. C'è un punto, un aspetto di cui si è parlato a un certo momento, al termine della riunione, incentrato sulla domanda ma cos'è che rende effettivamente innovativo e unico un progetto di comunicazione rispetto ad altri? Si potrebbe dire correttamente tutto ciò che va oltre il già detto e il già fatto, ma io mi permetto invece di sottolineare un aspetto. Rende unico e innovativo un progetto che pone davvero al centro della comunicazione, della company communication, pone al centro l'azienda in sé e il valore aggiunto di ciò che effettivamente produce come prodotto o eroga come servizio. Cos'è che rende unico un prodotto o un servizio? La sua funzionalità e soprattutto i vantaggi per gli utilizzatori finali, per i clienti. E' questo che rende particolarmente unico un progetto, quando è particolarmente centrato su un obiettivo, va dritto all'obiettivo pur evidenziando il contesto in cui l'azienda si muove, la sua storia, come si è evoluta, come è affinato le proprie competenze, come è affinato il proprio modo di stare sul mercato, di svilupparsi sul mercato. Questo è fondamentale, ma al centro ci deve essere la funzionalità, il plus, il valore aggiunto che l'azienda o il professionista, perché può essere anche un professionista o uno studio di consulenza, il plus che riesce a garantire avvantaggio dei propri clienti. Questo è fondamentale, perché va effettivamente oltre il semplice, pur positivo, storytelling dell'azienda. In un video precedente ho parlato della fattualità, cioè dell'aderenza alla realtà delle cose e dello scenario all'interno del quale l'azienda stessa o il professionista si muove e opera. Ecco, questo secondo me è un punto centrale sul quale bisogna non soltanto riflettere, ma agire oggi e domani soprattutto a maggior ragione. A presto e sempre con un altro video improvviso e estemporaneo con Marco on the news. Ciao a tutti, ciao!